La sindaco, perché non parla a nome degli altri, voglio un governo solido, coeso, un governo che abbia un programma unico e non i balletti a cui assistiamo. E quindi meglio il voto. Siamo in un momento cruciale, una crisi di governo che portasse a nuove elezioni ora e quindi a elezioni proprio nella sessione di bilancio, in che situazione vi metterebbe? In una democrazia parlamentare il governo rimane in carica più tanto che non si insegna il successivo. Le faccio un esempio, il comune dell'Aquila entro il 30 giugno aveva la scadenza di 53 progetti del fondo complementare al PNRR da portare in approvazione. Ci sono state le elezioni il 12 giugno, non è che abbiamo sospeso le elezioni perché c'erano i progetti del fondo complementare, li abbiamo portati a casa attraverso un'attività di programmazione. Siete più la concorrenza interna alla coalizione o il fronte progressista? Gli avversari sono dall'altro lato, l'abbiamo dimostrato all'Aquila, abbiamo fatto una coalizione di centrodestra ampia, coesa, abbiamo vinto il primo turno.